Siamo al padiglione S con il direttore marketing del gruppo Selva Umberto Borri qui il padiglione è grandissimo, avete tantissime offerte e tantissimi package i package che cosa sono innanzitutto? Ma è l'abbinamento imbarcazione e motore che è proposta proprio in abbinamento dove il motore è ingegnerizzato e pensato per abbinamento migliore per l'imbarcazione che deve spingere Quali sono i pezzi forti di quest'anno? Quest'anno presentiamo la 6.7 Elegance che è un'imbarcazione progettata dai nostri cantieri Selva motorizzata col nostro motore il motore in questo caso è un 115 è un'imbarcazione che è studiata nei minimi termini porta 8 persone, gli spazi interni sono molto ampi e come nostra tradizione è sempre proposta con un rapporto qualità-prezzo molto interessante Per portarla a casa chiave in mano, quanto ci vuole? Noi come sempre in occasione del Salone Nautico facciamo una promozione che è la promozione più interessante di tutto l'anno in questo caso quest'imbarcazione qua in formula package imbarcazione più motore 27.000 euro chiave in mano a casa Altri package che costano meno, diciamo l'entry level quanto può costare? Ma noi abbiamo dei package sui due gommoni che si può partire da 10-12.000 euro in su per cui non c'è limite alla provvidenza per cui comunque la partenza è intorno ai 10.000 euro di package uno si può comprare un'imbarcazione, un gommone con il suo motore divertirsi e dare così spazio al proprio sogno Ci sono delle novità anche per il settore gommoni, vediamo quali? Sì, nella gamma nel settore delle imbarcazioni pneumatiche la linea Evolution, presentiamo questo gommone da 6,50 m motorizzato con il motore Marlin nella nuova versione XSR, la sua caratteristica è il doppio prendisole il prendisole a prua e a poppa, molto comodo, ospita a 12 persone con un prezzo intorno ai 22.000 euro Ma qui allo stand Selva c'è anche un'altra novità quest'anno vediamo esposte anche le imbarcazioni Beneteau Sì, quest'anno abbiamo stretto un accordo con Beneteau dove abbiamo fatto questo accordo per motorizzare le barche Beneteau con i nostri motori Selva il concetto del package, come ho detto prima e sempre imbarcazione, allestimento e motore sono tre linee, la linea Sandec, la linea Open e la linea Cabrio in 8 modelli vanno dai 5,5 m agli 8,5 m si possono avere da senza patente fino ai 250 CV per cui ampia di scelta sia di imbarcazione come dimensione e sia di motorizzazione siamo molto soddisfatti di questa scelta e sicuramente il pubblico apprezzerà anche questo tipo di abbinamenti grazie a tutti